Bene, che bene posso farti io, bene di padre. No, più, un padre fa bene i suoi figlioli, ma li ha fatti lui, è suo dovere. Lei è più che padre per me. Sì, 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 ma tu come padre considerami e basta. Avessi, dico poco, trent'anni di meno e dunque padre, padre e niente altro. Padre, padre, sì, lei sarà il nostro vero padre, ecco. Ha bisogno di cura, d'assistenza, bene, ci sarò io, la curerò io e lei sarà anche il padrone della mia casa e non si pentirà mai del bene che mi avrà fatto. Figliolo mio, che vuoi che sia il po' di bene che ti fai io di fronte a quello grande che mi farai tu, solo a sentirti ridere contenta accanto a me. Io sola, saremo in due, professore, a ridere contenti e felici. Due d'io, sì, in due. E Giacomino, professore, Giacomino, che sarà più contento di me e di lei. Giacomino? Come Giacomino? Scusi, vuole che non sia contento anche Giacomino. Ma quale Giacomino? Come? Non è stato lui che è venuto a pregarla di dire una parolina per noi a mio padre? No, 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 figliola mia, no. No, no, tu sbagli. Come sbaglio? Aspetta, aspetta. Oddio, che ha, professore? Niente, niente, una... Una legnata in testa. Aspetta. Padre. Eh? Che volevo essere considerato da te soltanto come padre, ti ho detto, è vero? Sì, certo. Ma mi dica che sbaglio può esserci stato. Aspetta, aspetta, aspetta dunque, padre, padre. Padre. Non perdiamo la testa, Agostino. Ecco fatto, eh. È passato. Ma sappiamoci intendere, figliola mia, chi è questo Giacomino che tu credi sia venuto a pregarmi? Da me non è venuto nessun Giacomino. Ah, no. No. E allora? Ma che ha detto lei allora a mio padre per me? Eh, gli ho detto quello che allora ho finito di dire a te, che sono un povero vecchio, il quale potrebbe levarti da, da, da codesto stato, prendendoti con me come una figliola e, e, e basta. Me sola? E, e vorresti che mi figliassi insieme con questo Giacomino che tu dici? Capirai che per gli occhi del mondo... Ma se è come figliola, professore. Ma come, come figliola va bene, ma fra me e te. Ma se devo darti, eh, uno, uno stato, eh, capirai, non basta che tu te ne venga senz'altro a casa mia. Ci sarà pure bisogno. E non c'è Giacomino. E ci sarà Giacomino, non dico di no, ma lo stato, in faccia alla legge, eh, non può dartelo lui. Te lo dovrò dare io. Professore, io non capisco più niente allora. Ma come? Scusi, mio padre mi ha detto che era contento, se ero contenta io, per quello che lei gli aveva detto per me. Sì, sì, cara, sì, sì. Ma, ma, con questo, Giacomino, scappa, scappa fuori adesso. Io non, non ne sapevo niente, non l'ho mai visto, mai, mai sentito nominare. Mai, è Giacomino De Lisi, professore. Giacomino De Lisi, sì, 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 è stato mio, mio scolaro tanti anni fa, sembravo giovane, sì, sì, lo conosco. E quindi,